guardalo guardalo ah io li vado a prendere 200 mazzi ti vengo a prendere no tu grippi tutto? beh basta basta è troppo le solo fanno sbocca è impossibile dopo ieri sera io non riesco più a giocare le solo vecchio basta basta fanno sboccarsi qui è una gara a chi bloomba meglio devo pescare vecchio ma come gioca è un demone dell'Himalaya 26 26 non c'ho niente niente tutti con me ce l'hanno killato killato non è in live il banjo mi aveva detto che avrebbe attaccato oggi è stata una variazione di programma parliamo col pannocchione mi fa il giusto dito medio mi fa il pannocchione niente sotto in seguimento andiamo tenete le devo menare in poche parole se non li meni c'è è un delirio nessuno fa nulla proprio fermi così no dai vedi io vedo sta roba dopo mi viene voglia di cagliare no 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 quanto c'è ancora 59 oh si me la polleio qua se mi dan fuoco non è bello eh non posso farmi lo scar ho una rondelle c'è uno dietro il mio muro quello è tra il nocchiatto lì è un folgorato nulla io non ti ho chiamato no non ho pazzi non ho manco grazie adesso grazie 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 let's go solito cazzo e andiamo in the box cucinati proprio così con la roba con la roba e baro devo riuscire eh lo spas purtroppo dal mio landing spot è tosto avercelo a meno che non trovo il pompa blu che allora lì da dicci le recce cioè sei rondelline le trovo eh questo è un'altra questo è un'altra questo è un'altra ho messato di quel porco ladro ho messato se non missavo mi prendevo il refresh e l'ho messo da dio ho messato non ci credo ah questo era un refresh cioè oddio avevo il sifo mazza però ero messo da dio uno nel bush questo mi ha cucinato sono morto cioè tu mi dici se questo è normale tu mi dici se questo è normale è il gioco dici bombato dici è il gioco veramente guarda io quitterai adesso per rispetto cioè per il suo rispetto bel gioco bel gioco bella bella questa forse è stata penso la peggior porcata che mi sia mai capitato durante la season godo ma io mi posso mettere sopra di lui in teoria appena ricarica magari la prossima volta che spraya qualcuno e ricarica ho crackato nessuno ha sparato ma è dentro è dentro oh è il c***o prima che gioca a caso cos'è che play è me la spiegate che play è ma che c***o che gioca è questa questa era una situazione fuori di testa cioè guarda non commento neanche perché so che mi incazzerei anzi chiedo un attimo che ora ho pronto da mangiare prima che tiro un urlo perché per questo c'era da incazzarsi c'era da incazzarsi un pochettino ciao